eccoci qua buon pomeriggio su da tutti siamo per partire con una nuova puntata grazie intanto come sempre per gli ascolti tra gli argomenti di oggi paranormale molti di voi ci hanno chiesto di trattare questo tema argomenti che qualche modo parlassero di sovrannaturale perché avrebbero avuto incontri reali con alcune entità altri invece non credono proprio ma al di là di questo questi esperti questi indagatori che cosa utilizzano per raccogliere prove di attività paranormali ce lo siamo chiesti si sente parlare molto per esempio di termocamere si sente parlare di registratori e quant'altro ma quindi stanno penetrare gli esperti così ci fanno capire di più poi cambieremo argomento parleremo anche grazie all'air stylist di una serie di consigli per tendenze capelli quest'estate 2024 ma anche nel mondo dell'imprenditoria perché poi a partire dal nulla e costruirsi un mestiere grazie all'arte grazie alla vocazione verso questa professione non è proprio semplice quindi parleremo anche di questo intanto c'è la sigla ben ritrovati pomeriggio sud il paranormale è un aspetto che devo dire interessa davvero molte persone perché c'è questa vera e propria curiosità nell'indagare sui fenomeni su quegli eventi che non si spiegano e spesso questi indagatori paranormali che cosa fanno hanno una particolare ovviamente si avvalgono di di tutta una serie di strumenti elettronici per cercare di individuare per cercare di registrare eventuali presenze eventuali anomalie per esempio ci sarebbe la termocamera ci sarebbero i sensori di movimento ne parliamo a questo punto con mario continuo scrittore esperto di folklore che ringrazio benvenuto grazie grazie a voi per questa opportunità diciamo che noi ricercatori del paranormale cerchiamo di portare avanti una ricerca che possa essere quanto più razionale possibile è chiaro che nell'ambito delle fenomenologie del paranormale molti non badino molto a questo aspetto molti gruppi tendono tendono appunto a spettacolarizzare quella che è la ricerca ecco personalmente invece ritengo che una ricerca per essere definita tale debba comunque svolgersi in maniera lineare con quello che è il pensiero scientifico a proposito del pensiero scientifico ne parliamo tra pochissimo vado intanto a salutare anche l'altro collegamento daniele creati content creator di italia 1 magazine benvenuto con noi ciao francesco ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori intanto complimenti per la tua rubrica grazie mille francesco grazie da poco ricordiamo anche gli amici a casa della tua rubrica italia 1 magazine esattamente che cosa tratti e il web c'entra perché ormai fa parte delle nostre vite quindi tutto quello che appare sui social è anche parte della nostra è un appendice insomma la nostra vita l'importante come si dice usare bene a proposito per il benessere digitale la tecnologia allora io interrotto un secondo mario che mi sta appunto puntualizzando delle cose sì praticamente quando noi operiamo noi come gruppo nell'ambito delle fenomenologie del paranormale operiamo come osservatori principalmente quindi non come fanno alcuni che si pongono con l'obiettivo di esorcizzare purificare e quant'altro noi cerchiamo anzi parlo al singolare io cerco principalmente di constatare lo stato dei luoghi nell'arte nell'arco temporale nel quale esercito nel quale opero tanto fa bene a fare questa premessa perché con tutto quello che accade oggigiorno tra millantatrici millantatori chi professa di vedere la madonna chi professa di vedere a voglio dire per chi crede sa esattamente che potrebbero succedere determinati aspetti ma non bisogna per forza condividerli con gli altri qualora fosse vero e qualora si fa la scelta di condividere bisogna anche rispettare poi dall'altra parte che ci sono persone che invece non credono a quello che diciamo prego sì esattamente questo è il problema quando vengo chiamato da qualcuno che afferma di avere in casa fenomenologie del paranormale prima di tutto bisogna valutare la fonte cioè questa persona ha veramente motivo di dirmi una cosa del genere o è soltanto qualcuno che vuole sfruttare questa ricerca per mostrarsi per per ottenere visibilità quindi per avere un guadagno secondariamente questo è un aspetto da non sottovalutare secondariamente noi stessi quando ci poniamo da ricercatori cerchiamo di escludere dal nostro dal nostro ambito di ricerca tutti quei luoghi che e tutti quei presunti colleghi perché colleghi non sono che sfruttano il paranormale per per lucrare quindi per me quelli sono truffatori e apporso un apprezzo intanto eccolo qua a che cosa serve allora quando noi facciamo ricerca metafisica sì in questo caso quando cerchiamo quando cerchiamo un un contatto con con il mondo diciamo del spiritico mettiamola così quando cerchiamo di valutare se queste presenti sono reali o meno cerchiamo di ottenere un contatto tramite varie strumentazioni quindi con registratori vocali con radio particolari cerchiamo di ampliare quella che è la nostra percezione fisica perché noi riusciamo a percepire il 5 per cento soltanto della realtà che ci circonda tramite i nostri sensi questo 5 per cento può arrivare più o meno ad un 35 40 per cento tramite gli strumenti che noi utilizziamo quindi per questo motivo ci avvaliamo di una determinata strumentazione oltretutto è importante registrare valutare i parametri biofisici ambientali e per questo motivo 15 che cosa intendi però biofisici biofisici intendo la temperatura ad esempio del luogo intendo la presenza di campi elettromagnetici intendo la pressione atmosferica l'umidità e così via tutti elementi che poi combinati insieme dati che combinati insieme osservati alla luce di quello che potrebbe essere anche una registrazione auto una registrazione fotografica o video che noi possiamo definire anomala ci danno quella che è la misura del della nostra ricerca quindi ci danno un po l'idea di quello che abbiamo potuto ottenere prima di capire meglio come funzionano questi strumenti torno da daniele daniele creati che crea nella sua rubrica delle in realtà poi riporta delle delle storie che sono anche paranormali ma io solitamente tendo molto a fare ricerche nella rete per trovare notizie che nel mondo stanno un po richiamando il mistero il paranormale per poi discuterne con il pubblico quindi non ho la presunzione di dire sono esperto di qualcosa o meno io mi limito a condividere essendo un content creator queste notizie mi è piaciuta molto la premessa che hai fatto soprattutto in merito alla religione e al paranormale che spesso sai la gente ora nomina troppo spesso esorcismi cose simili io lo vedo anche nei miei commenti sui social magari le persone dicono dio io litigo in casa con la mia migliore amica che devo chiamare un esorcista no non è così che funziona ci sono casi molto complessi di cui non ce ne occupiamo noi ci sono delle vere e proprie autorità e io come sempre consiglio prima di parlare di paranormale o prima di parlare di misteri ci sono delle autorità specifiche specifiche come i carabinieri la polizia che devono intervenire poi a esclusione si va si arriva anche al paranormale certo perché ci sono ovviamente le forze dell'ordine che lavorano a 360 gradi anche nel caso assolutamente si vengono chiamate ad operare perché determinate persone assistono a determinate presenze io ho un amico poliziotto spesso è stato chiamato per queste cose poi ripeto a casa c'è gente che non crede continua a non credere fa bene perché ognuno fa ciò che vuole è giustissimo ognuno deve avere la sua opinione d'altra parte chi ha le prove poi non deve neanche essere smentito a tutti i costi se ti chiede di non credere ma è successo diciamo questo come si dice anche nella religione come dicevi tu c'è chi crede e chi non crede però bisogna rispettare se vogliamo andare d'accordo le culture nelle opinioni e le scelte verissimo verissimo la storia che ha fatto scalpore in quest'ultimo periodo e che tu hai trattato qual è oddio di recente l'ultima di cui ho parlato proprio a livello misterioso e ne ho scritto anche nella mia rubrica misteri del web è stato inerente ad un avvistamento ufo a las vegas il giorno di capodanno di cui tutto tutta l'america e tutto il mondo ne ha parlato sui social convinti di aver visto un essere a girarsi in un centro commerciale o comunque venivano fotografate strane sagome e io personalmente ci chiedi agli ufo assolutamente sì io credo credo agli ufo credo ad altre forme di vita oltre oltre la nostra perché secondo me sarebbe sempre troppo presunto presuntuoso dire che siamo gli unici dell'universo davvero sarebbe anche limitante mario anuiva anche mario chiaramente sono perfettamente d'accordo con quanto appena detto non si può avere la pretesa di convincere qualcuno perché noi non facciamo prosolitismo quindi mostriamo semplicemente una realtà raccontate eventualmente quello che accade esattamente cioè noi mostriamo una realtà e poi ognuno è libero di giudicarla in base al suo metro torniamo un attimo agli attrezzature quindi a questi strumenti che vengono utilizzati così capiamo meglio per esempio la telecamera termica come funziona esatto la telecamera termica così come anche la fotocamera modificata quindi full spectrum funziona in questo modo noi con la nostra vista non riusciamo a vedere determinate radiazioni luminose nello specifico l'ultravioletto e l'infrarosso cosa succede? con quella telecamera riesco ad ampliare la mia percezione visiva quindi andare a scrutare un po' nell'invisibile di pochi nanometri però riesco a scrutare un po' nell'invisibile questo cosa vuol dire? che se un'eventuale entità che riuscisse ad avere una reazione a quel tipo di reazione luminosa dovesse essere in un ambiente anche se io non dovessi vederla con la mia vista potrei in qualche modo registrarla con quella strumentazione la termocamera funziona allo stesso modo perché registra queste variazioni di temperature di cui mi parlavi prima le variazioni di temperature sono da attribuirsi alla leggenda, al folklore siccome folklore è un ramo importante dello studio su paranormale funge da grande magazzino se vogliamo da grande libreria con osservazioni che abbraccia sia leggenda che realtà sì, praticamente alcune leggende parlano che in presenza di queste entità spiritiche sia un abbassamento della temperatura un calo termico importante e questo verrebbe percepito dal tipo di telecamera questo verrebbe percepito sia dalla termocamera ma anche dai nostri termometri laser ad esempio dai nostri rilevatori come dicevo prima di dati biofisici ambientali quindi ciò che io potrei interpretare male perché magari suggestionato dal momento potrebbe essere rilevato scientificamente proprio da quella strumentazione bello, volevo tornare su Daniele tu hai assistito al di là degli UFO mi hai detto che ci credi così come tanti milioni di persone nel mondo ma hai assistito ad eventuali anomalie eventuali presenze o comunque hai registrato particolari effetti che solitamente non si spiegano? no no non so se dire sfortunatamente o fortunatamente dipende dai casi esattamente è proprio questo che spinge la mia curiosità verso questo tema sono estremamente curioso ed estremamente scettico e quindi amo ricercare e scoprire il più possibile su un argomento come quello che ti ho citato prima di Las Vegas che dopo attente ricerche perché non era difficile da intuire che era una fake news questo avvistamento nonostante continuino queste notizie di questo avvistamento che ha fatto il giro del mondo che è stato veramente clamoroso e nonostante anche gli stati abbiano affermato e confermato la presenza di questi esseri però in quel caso si trattava di un fake esattamente 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 poi ovviamente io trago molto spunto anche per il settore che mi riguarda principalmente che è l'horror quindi trago spunto da queste vicende per costruire poi i miei mondi dove scrivo e racconto storie è vero che poi tu costruisci storie horror in particolare e questa tua passione da dove deriva? sicuramente dalle mie paure cosa si spiegava perché sono una persona una persona estremamente ansiosa quindi quando racconto queste storie in realtà se io ci vado a riflettere sono tutti riferimenti alle mie paure che può essere una porta che viene aperta di notte da uno sconosciuto che mi entra in casa o una finestra che viene rotta di notte e da lì inizia un qualcosa quindi dalla mia paura e dalla mia ansia da lì parte paure e ansia purtroppo sono quelle che accomunano i due elementi che accomunano l'intera umanità e poi non a caso l'uomo cerca di spiegare sempre cosa ci sarà al di là della vita esatto Mario che cosa voglio aggiungere? beh intanto ancora una volta concordo con Daniele ma oltretutto per quanto riguarda il fenomeno ufologico ricordiamo che nel 2021 un'organizzazione chiamata proprio dal governo degli Stati Uniti americani ha esaminato vari avvistamenti già provenienti da fonti autorevoli quindi fonti militari oppure aeronatica civile comunque fonti autorevoli e di questi avvistamenti circa 144 sono risultati senza spiegazione razionale per cui nel 2021 è stato ufficializzato il fenomeno ufologico come avvistamento reale di oggetti non identificati successivamente poi chiamati UAP quindi fenomeni aerei non non identificati tempo fa in una delle nostre puntate abbiamo trattato il tema proprio con esperti in questo senso prego sì credo la federazione ufologica italiana esatto è proprio questo il punto dal momento in cui qualcuno dice questi fenomeni sono reali quindi non sono sviste non sono fenomeni naturali e quant'altro non sono difetti video quindi sono reali laddove neanche la scienza esattamente diciamo che la scienza tende a spiegare un po' tutto la scienza e a volte secondo te i propri limiti non li considera? la scienza considera sempre i propri limiti il problema è che non li ammette nel mondo scientifico vi è anche il pregiudizio ed è questo il vero limite da superare il pregiudizio non tanto il limite psicofisico della persona o strumentale o tecnologico è proprio il pregiudizio il pregiudizio pone un limite invalicabile perché pone l'uomo di fronte alle sue paure di fronte alla paura dell'accanimento sociale dell'accanimento mediatico quindi di fronte a tutto questo uno scienziato anche se crede anche se magari è vicino ad una risposta si ferma e aspetta che quella risposta la dia qualcun altro ed è per questo che la scienza si blocca torniamo da Daniele eccomi dicevo la scienza si blocca laddove insomma ha anche il pregiudizio come ognuno di noi non voglio essere ripetitivo però nel momento in cui tu proponi queste storie tra i commenti social live che cos'è che viene fuori? che voglio capire anche l'opinione di chi si interfaccia e confronta con un aspetto parallelo allora io devo essere devo essere molto sincero bene o male quando uno crea un contenuto di intrattenimento che sia una storia horror se la godono e fin lì va bene quando tratti temi dove parli di case infestate oppure di articoli di giornale che parlavano di un avvenimento avvenuto in una casa infestata a Londra eccetera io noto ho anche di avvistamenti UFO io noto un accanimento delle persone una rabbia che secondo me è semplicemente la paura la paura che in realtà possano realmente esserci come se andassi a destabilizzare una quiete personale esattamente sì esattamente sì e quindi hanno hanno paura a sentire qualcosa di diverso hanno paura a sentire che c'è l'ipotesi che potrebbe esistere un'altra forma di vita quando è così non ti la rabbia nei commenti si arrabbiano insultano la gente si arrabbia non riesce ad argomentare cioè finché una persona non è d'accordo più purtroppo rispetto a prima anche le giorni di imbecili si fanno avanti anche persone che in realtà offendono senza nessun partito senza nessun motivo è vero sarà capitato anche a voi con le varie sempre purtroppo quando qualcuno parla di paranormali c'è sempre chi ti affronta anche in maniera offensiva magari senza conoscere la realtà dei fatti io ho la fortuna di tra virgolette di avere dei rapporti anche con il mondo del civica con il mondo scettico diciamo così con vari rappresentanti e questo mi dà un vantaggio cioè quello di far capire che quando si parla di paranormale con serietà si può parlare di paranormale cioè qualsiasi argomento quando viene trattato con rispetto e serietà può essere trattato e quando subentra l'irarità subentra l'offesa che tutto si riduce ad una dimensione insomma poco anche poco umana con le ricerche qualora fossero vere vanno sminuite esatto del tutto ma torniamo un attimo agli attrezzi quindi ripartiamo con la nostra galleria rispetto anche alle foto che abbiamo visto pochi istanti fa oltre alla telecamera termica cos'altro c'è? di cos'altro vi servite? allora lì ho chiaramente ripreso un'attrezzatura utile per un primo sopralluogo per cui questi qua che state vedendo adesso sono appunto gli strumenti questi sono registratori? sono è una radio ad onde corte una radio ehm normalissima vabbè diciamo un po' più tecnologica rispetto alle altre ma si può usare una qualsiasi radio se vogliamo ad onde corte è un registratore Tascam è un registratore vocale che usano spesso anche diciamo i giornalisti un registratore molto comune ehm molti utilizzano uno strumento chiamato ghost box che è uno strumento che io sconsiglio anche se va molto di moda ci sono gruppi che fanno dei video pazzeschi quasi horror come Daniele Benzà utilizzando questo strumento perché questo strumento capta varie frequenze radio ehm capta una parola di qua una parola di là insomma in ripetizione poi dà origine a delle frasi o a delle risposte che possono anche sembrare veritiere ed attinenti ma che sono del tutto casuali ehm io ed altri ricercatori cerchiamo in tutti i modi di far capire che questo strumento non va utilizzato o comunque non va utilizzato voi siete andati anche nei castelli in giro per la Puglia sì sì sono stato nei castelli in tutta Italia ecco in tutta Italia quindi in questi posti c'è spesso molto di interessante non dico di paranormale di interessante altre volte c'è solo una leggenda sfruttata in maniera egregia dai responsabili del sito per attrarre turismo ehm sono molto più attratto a dire il vero da delle abitazioni private perché molti nascondono pensando che poi non ci vada più nessuno a visitare invece altri hanno un effetto opposto no no hanno sempre un effetto molto positivo Puglia misteri e leggende che parla proprio di questo è vero l'abbiamo preso apposta ehm gli hai scritti tre finora o quattro i libri ehm non ho capito bene quanti libri hai scritto? beh ho scritto circa dodici libri questo è quello più diciamo è relativo alla Puglia tutti relativi a questo tema? no ci sono anche romanti ci sono anche raccolte poetiche però la base è sempre il folclore di paranormale anche di quelli ho scritto di esagio ho scritto anche su ufologia su questo in particolare che cosa dicevi? beh su questo io ho fatto un tour se vogliamo per una Puglia misteriosa ho mostrato un'altra faccia della nostra regione una faccia sottovalutata l'aspetto folcloristico Pugliese è ridimensionato viene descritto soltanto a livello di folclore popolare in relazione alla musica la tipica notte della Taranta e le persone ignorano proprio l'origine della Taranta che è un'origine misteriosa anche quella e tu con questo libro lo spieghi? lo ricordi? spieghi un po' di storia? io spiego tutte le leggende spiego tutte le mie ricerche spiego il folclore Pugliese in tutte le sue forme dalla stregoneria al paranormale dal castello del fantasma nel castello alla leggenda sull'ufologia non voglio sapere quale però tu ovviamente se fai queste cose in qualche modo avrai avuto delle conferme o in qualche modo ci crederai in qualche castello d'Italia ti è capitato o più di un castello ti è capitato di percepire determinate presenze determinati aspetti l'indagine più interessante nei castelli è certamente quella nel castello di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia lì al di là della leggenda di Bianca Lancia vicino a casa praticamente e sono di Foggia si e lì al di là della leggenda di Bianca Lancia che storicamente non ha nulla a che fare con quel castello perché è deceduta a Gioia del Colle Bianca Tagliano la quarta moglie di Federico II di Svevia lì comunque ho ascoltato e ho registrato la voce la presunta voce mettiamo sempre il condizionale di un'entità femminile che pronunciava la parola 87 e successivamente la stessa voce che pronunciava la parola non voglio morire la nelle prigioni quindi è un'esperienza molto forte se pensiamo che contemporaneamente il nostro rilevatore di umidità atmosferica si è bruciato quindi si è rotto subito dopo? no proprio in contemporanea per cui qualcosa è successo certo da lì a dire che ho registrato il fantasma di castello eravamo più di una persona avevamo la squadra c'era anche il responsabile del castello avete assistito abbiamo sentito abbiamo visto un'ombra proprio spostarsi sul muro e poi abbiamo avvertito questa presenza abbiamo registrato questo che effetto ti ha fatto? beh un effetto di interesse perché io da ricercatore non è che succedono cose del genere fuggo via come fanno alcuni che sentono un'ombra scappiamo dalla masseria ma sei lì per quello come fai a scappare? anzi io sono felice se in qualche modo riesco ad ottenere una prova riesco a vedere qualcosa sarei il ricercatore più felice del mondo se riuscissi a toccare con mano un'entità per cui piacevole sensazione ecco dal mio punto di vista sono sensazioni piacevoli andiamo avanti con gli altri prodotti ho visto che oltre alla termocamera e ai registratori c'era dell'altro c'era il famoso K2 EMF meter che è quello strumento esattamente il primo con i led l'ho fotografato di proposito perché anche se il meno utile che non è il meter con il quale noi misuriamo l'audite no 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 e molti lo scambiano pensavo di essere rubato a Pellinos o a Andrew insomma in regia i nostri tecnici e registi quello misura praticamente il campo elettromagnetico in un ambiente quindi se lo accendessi qua dentro segnerebbe picchi praticamente da Belzebue se vogliamo così proprio perché quello non rileva fantasmi non rileva demoni come dicono alcuni ma campi elettromagnetici quindi gli strumenti vanno utilizzati con cognizioni di causa non vanno denaturalizzati vanno utilizzati esattamente per il loro scopo che poi i campi elettromagnetici possano essere o meno valutati in relazione a fenomeni paranormali quello va in un post-indagine va valutato ma vedere questi ricercatori che camminano così come se fossero dei ghostbusters televisivi no non va bene per niente per cui meglio dirlo subito e poi abbiamo chiaramente dell'attrezzatura come abbiamo detto prima delle fototrappole delle videocamere tutte basate sulla ricezione dell'infrarosso rosso e dell'ultravioletto e quindi andiamo appunto ad ampliare quella che è la percezione umana per cercare di scrutare nell'invisibile Qual è secondo te lo strumento che proprio non ci deve mancare per avere insomma dei dati attenti nel registratore vocale perché i dati maggiori ci dicono che questo contatto è maggiore a livello sonoro che visivo per cui direi il registratore vocale ok Daniele torniamo alle storie web nella tua rubrica come si chiama hai detto i misteri del web mistero magazine mistero magazine no la conosco come rivista non ricordavo proprio il titolo che avevi dato a questa rubrica nel web che come mi dicevi erano degli UFO ma c'è una storia particolare che poi risultata vera secondo diciamo fonti attendibili e che ti ha colpito ma oddio risultata vera diciamo che sul mistero io riportando notizie prese dal web la maggior parte delle notizie che io ho portato sono tutte notizie che io ho portato sì ho portato sulla rivista proprio per smentirle quindi è paradossale la gente a casa ecco si stava chiedendo perché se credi siano fake le riporti poi in rivista perché come è arrivata la risposta per smentire quindi rafforzare insomma far venire fuori la verità tante sì tante rimangono a volte nel mistero invece come gli avvistamenti UFO quindi io riporto magari delle notizie che vedo che stanno facendo il giro del mondo dove dicono che hanno visto questo UFO in Brasile quattro volte a San Paolo mi faccio dei punti di domanda e li riporto oppure parlo di avvenimenti misteriosi in alcune case in Spagna cerco sempre di riportare delle notizie misteriose ma senza la presunzione di dire che io sia un esperto io sono un content creator che ama parlare di quello che gli piace e sono molto cinico quindi smentisco qualsiasi cosa quindi non riesco a credere in un qualcosa a cui non credo molti affermano di aver assistito a realtà surreali proprio all'interno delle loro case che cosa mi puoi aggiungere? che cosa ne pensi? molti ci chiamano proprio per questo la prima cosa che ci dicono e io voglio una prova perché credo di essere pazzo allora fermo restando che noi consigliamo comunque a tutti a tutte queste persone un consulto chiaramente psicologico psichiatrico perché noi non siamo medici per cui non possiamo valutare se effettivamente hanno avuto delle allucinazioni reali soprattutto se fanno uso di farmaci o chiaramente di altre sostanze a volte anche un deodorante per ambienti se in concentrazioni troppo elevate può causare delle allucinazioni degli effetti comunque particolari per cui noi consigliamo sempre questo poi se riusciamo ad ottenere anche una prova tangibile che possa tranquillizzare queste persone nel senso guardi signora che ciò che lei dice di aver visto abbiamo visto anche noi diamo quel materiale consegniamo quel materiale e li spingiamo comunque ad un ambiente scientifico perché non sta a noi identificare il fenomeno i telecomandi dell'apertura automatica dei cancelli possono interferire con gli elettrodomestici in casa e possono dare origine a questi suoni che loro poi interpretano per suggestione come attività paranormali insomma ce ne sono molti di paranormali c'è veramente poco più delle volte è suggestione più volte è suggestione vado da Daniele per sapere se già puoi iniziare a spoilerare qualcosa approssimamente rubrica che cosa troveremo ha già deciso? ah io sono proprio in fase di ricerca in questo periodo perché il prossimo numero uscirà a settembre no sì penso a settembre anche perché Mario è un mio collega cioè Mario anche scrive per Mistero Magazine certo quindi per me un grande piacere oggi per me è stata una sorpresa sono in fase di ricerca e nella prima volta a proposito di coincidenze che io così inserisca ospiti senza che poi sappia che si conoscono o fanno le stesse cose no invece è bellissima questa cosa io sto facendo molte ricerche non sto ancora trovando dei casi perché il numero uscirà a settembre sto tenendo d'occhio tante situazioni e vorrei spostarmi proprio su argomenti affini a quelli appunto di Mario perché sto notando che ci sono tantissimi casi adesso in giro per il mondo dove parlano di presenze entità e affini sono molto curioso e non vedo l'ora di spulciare qualcosa di interessante per il prossimo numero Mario invece su che cosa dobbiamo diffidare quali sono le raccomandazioni che dai al pubblico dei falsi santoni dei falsi medium di tutti gli operatori dell'occulto che operano prettamente per ricevere denaro quindi per una loro ricompensa lo studio va fatto sì con il medium cioè io credo che possano esistere persone dotate di queste capacità ma la prima parte della ricerca va fatta sul medium sul sensitivo e solo successivamente con il medium o con il sensitivo cioè il ricercatore deve prima accertarsi delle capacità reali di queste persone o perlomeno avere una buona dote di speranza che possano essere in qualche modo veritiera e per le persone comuni diciamo al di fuori della ricerca non pagate la raccomandazione soprattutto agli anziani non pagate non pagate non pagate non date soldi ecco anche per sapere diciamo situazioni amorose si rivolgono a determinate persone molte non sono né attendibili e né di soprattutto quando queste persone sono loro a contattarti e quindi non sei tu a rivolgere che ognuno è libero di rivolgersi a operatori dell'occulto che hanno anche delle partite IVA ci sono partite IVA adatte all'operatori dell'occulto a maghi cartomanti eccetera per cui non è che sono nell'illegalità il problema è quando sono loro a chiamarti e soprattutto quando vogliono metterti in contatto con il caro defunto poi da la cominciano a chiederti somme di denaro per delle comunicazioni non fatelo sempre più forti insomma che va bene crederci diffidate poi ognuno è libero di scegliere in base al suo metro però il mio consiglio è di diffidare grazie Mario Contino grazie a voi scrittore esperto di folklore grazie Daniele Creati Italia 1 Magazine grazie a voi grazie davvero ovviamente ci rivediamo prima fammi sapere le prossime storie così le condividiamo con gli annunci a casa assolutamente sì intanto ecco grazie raccomando ai nostri telespettatori a rimanere qua perché poichissimi istanti torniamo qualora lo vogliate nelle vostre case parliamo di tendenze estate capelli tendenze capelli per l'estate 2024 ma parliamo anche di imprenditoria per capire poi come si crea un mestiere di successo Ritrovate a pomeriggio sud tra colori, forma e geometrie arriva la tendenza capelli estate 2024 e arriva l'esperto che ci spiega intanto si sono catapultati in tanti sui social per capire quali sono i tagli i colori più richiesti per questa stagione per scoprire quali sono questi principali trend che dominano questo panorama capelli abbiamo invitato l'air stylist Raffaele De Girolamo che saluto buongiorno buongiorno a tutti allora grazie a te io ho anticipato alle amiche anche agli amici perché tu fai uomo o donna per cui tutti quanti possono ascoltare i consigli ma mi premeva anche poi capire e anche far capire come si diventa imprenditori di se stesso perché è di successo nel momento in cui si parte da zero cosa che a un certo punto ecco quella molla che a un certo punto viene sparata come si dice allora grande domanda e domanda finalmente diversa da quelle che mi fanno di solito grazie come si diventa imprenditori oppure parrucchieri 3.0 i social ci hanno aiutato tanto quindi abbiamo visto tanti miei colleghi che dal nulla hanno iniziato a creare catene hanno iniziato a creare linee di prodotti hanno iniziato a creare qualcosa di diverso che era quello del solito parrucchiere di stare nel negozio l'imprenditore oggi credo che deve avere una visione un po' più ampia di quello che è il nostro mestiere il nostro mestiere può essere fatto in due modi come spesso dico può essere fatto come il parrucchiere della nonna Maria oppure il parrucchiere che vede a 360 gradi quello che può essere il futuro per me è stata sempre una scommessa ed è stato sempre uno scoprire e andare avanti vedere quello che poteva dare il mio lavoro ad oggi dico che in esclusiva oggi esce il nostro e-commerce dove lancio la mia prima linea di prodotti dopo 22 anni partiamo con 5 prodotti una linea solare e un prodotto rivoluzionario che vedrete dopo ovviamente per noi rivoluzionari grazie per noi ci saranno delle ottime aspettative quindi speriamo che abbia successo solo quello prodotti immagino sempre per la cura e il benessere del capello sempre per il capello come hai cominciato scusami allora io ho incominciato per gioco incominciato quando avevo 10 anni incominciato quando avevo già capito come essere bravo a scuola e quindi stavo molto attento in classe il pomeriggio mi finivo presto di fare i compiti quindi un ragazzo che abitava sopra casa disse inizio a lavorare in un barbiere mi disse ma pure io voglio andare a lavorare quindi mia madre mi accompagna un po' in inverno in questo barbiere e dico posso venire a lavorare lui dice quanti anni hai? 12 bugia ne avevo 9 perché dovevo fare la quinta elementare e da lì inizia la mia scalata quindi praticamente a 9 anni a 9 anni oggigiorno non si può dire questa cosa però per la serie chi la dura la vince perché poi si è andato dritto a spada tratta verso questa strada e certo oggi ho 41 anni e sono 31 anni che faccio questo mestiere si è affermato tra l'altro hai poi avuto partecipazioni ma anche avuto sei stato tre protagonisti di format televisivi ricordo su Rete4 con Diego Della Palma si abbiamo fatto un programma bellissimo con Diego Della Palma che era come si cambia celebrity poi ho l'onore ho avuto l'onore di curare tante celebrity attori artisti cantanti che oggi seguo ehm mensilmente nei loro nei loro film nei loro nella loro nella loro quotidianità perché poi quando instauri un rapporto con una celebrity loro si fidano solo di te quindi li segui a Sanremo al Festival del Cinema alle Fashion Week nei loro nei loro shooting photographic quindi li segui ovunque quello che un merito forse che sono stato sempre umile eh disponibile questa è stata la mia forza la disponibilità ma pure verso i miei clienti quello che oggi è il mio punto di forza credo anche nell'andare incontro a questi vari personaggi sai le proprie scelte poi viste da un esperto o meglio le richieste che in qualche modo poi un esperto riesce a contentarle presentarle ma senza strafare certo sempre nel limite che io posso posso andarli incontro perché quando mi è stato chiesto di andare a New York mi è stato chiesto di andare a Dubai con i miei impegni non potevo e quindi ho detto anche no però se posso lo faccio infatti a fine mese andrò in Sardegna per l'evento di Dolce Gabbana facciamo quattro giorni lì quindi siamo sempre work in progress c'è stato un vip particolare che in qualche modo ti ha dato da fare più del solito con richieste anche strane allora forse l'unica che mi ha dato forse quel ce la farò ce la farò ce la farò è stata Brooke di Beautiful era la prima star la prima celebrity internazionale che curavo però posso dire che lei è di una dolcezza assurda lei è stata forse tra tutti questi che girano tra vari programmi e vari salottini che non sono nessuno e se la tirano lei è stata la più umile la più brava la più educata forse questa è la realtà e poi ho uno dei miei diciamo cavalli di battaglia che è Alex Belli che siamo siamo diventati amici 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 come fratelli venuto ai miei 40 anni facciamo viaggi insieme anche lui un bel capello da modellare da proposito di prodotti e infatti un'altra cosa che ricordo sempre del mio del mio passato è che vedevo 100 vetrine quando finivo la scuola le due poi andavo al parrucchiere volevo i suoi capelli uguali e ad oggi le li faccio io questa è la stata la sua amma la cosa bella del mio mestiere oppure quando sono andato la prima volta a Sanremo vedevo questa scritta a Ariston io la vedevo dalla tv e poi c'ero lì dentro tante esperienze bellissime tante esperienze il mio lavoro è proprio questo che ti fanno rendere conto di quanta strada poi tu abbia fatto nonostante giovane perché a 40 anni si è giovane e c'è ancora tanto percorso da fare ci sarà ancora da fare almeno per 15-20 anni però la cosa bella del mio mestiere è proprio questo interfacciarti con tanta gente con tanti tipi di gente e capire quello che realmente ci gira intorno perché comunque essendo di un paesino non mi sarei mai aspettato di arrivare dove sono arrivato di avere a che fare con chi ho a che fare però io credo che nulla accade per caso io forse mi sono trovato al posto giusto nei momenti giusti non lo so posso dirti sarà stata anche la tua bravura e competenza altrimenti duravi poco sì la bravura perché io ho aperto il mio primo negozio a 21 anni e vedevo che questo negozio non non partiva come dicevo io allora con i miei genitori vidi la migliore accademia in Italia di Greco e di Aldo Coppola un bell'investimento mi misi con la mia valigetta nel treno e andai come Renato Pozzetto nel film ragazzo di campagna a Milano arrivo lì e per me si è aperto il mondo il mondo senti lavorare con l'amico Diego Dalla Palma che ricordo ha scritto la prefazione del libro come è stato è un grande artista è un grande artista è una persona essendo un make up artist per eccellenza se tu non hai le qualità giuste non puoi lavorare con lui e le qualità giuste non le hai dall'oggi al domani le qualità giuste viaggia a 320 km orari è come una Ferrari V8 è un grande anche lui poi è partito dal nulla si è costruito grande professionalità grande attendibilità ma come vediamo anche sui social oggi ormai è tutto più libero tutto più accessibile come vediamo sui social oggigiorno diventare un personaggio non ci vuole nulla mi avvalgo della tua velocità perché tu sai che in televisione i tempi sono sempre ristretti eccelleri per cui ti chiederei di farci vedere perché le amiche a casa stanno aspettando anche questo ma volevo condividere anche un po' di storia tua che sicuramente può servire ai vari telespettatori a chi si affaccia a questo mestiere come dicevi tu hai cominciato prestissimo a 9 anni addirittura quindi se ci sono diciotteni ventenni e hanno appreso e perché no tu da monito sei stato anche diciamo non capace ma li hai in qualche modo stimolati perché no ti fa piacere perché si oggigiorno quello che la nostra difficoltà è solo una trovare gente che voglia fare questo mestiere quindi oggigiorno magari ci sia della manovalanza che voglia imparare poi ognuno è libero di scegliere però oggigiorno questo mestiere dell'influencer ha un po' stravolto tutti i piani delle donne e degli uomini anche cioè ovvero non voler far nulla e guadagnare tanti soldi però il vero lavoro è tutt'altro anche confuso sulla professionalità perché voglio dire voi avete tanto di studio e tanto di percorso molti purtroppo si professano esperti ma non lo sono affatto qui hai ecco hai posizione hai agiato diciamo così un prodotto ho notato prima che vedo fa delle onde fantastiche allora questo è il nostro prodotto di cui ne vado fiero è il beach wave dove io sto creando su Giada un effetto che lei può riprodurre semplicemente quando esce dall'acqua ok quindi abbiamo messo un gel effetto bagnato e ora con questo prodotto andiamo a texturizzare le onde perché è un effetto salino tipo spray salino che ti dà proprio una texture diversa tipo appena uscito dall'acqua allo stesso tempo protegge il capello protegge il capello perché ha l'acido alluronico dentro che va a proteggere la struttura del capello però questo è un effetto bellissimo che le donne ricercano tantissimo quindi ho creato questo prodotto e sia uno spray salino che ti dà texture oltre che ad essere un ristrutturante perché dentro abbiamo l'acido alluronico l'acido alluronico e la cheratina quindi ti nutre ripara e poi ti fa questo effetto bellissimo che sembra bagnato però è solo texturizzato che poi in pochi istanti in qualche modo in pochi istanti ti crea proprio questo effetto che è bellissimo e che resta dura parecchio tempo sì ti resta così Giada è pronta così Giada è pronta però cerco di capire attraverso il suo Giada io l'ho conosciuta veramente da poco ed è entrata nel mio diciamo nel mio team sì io ho fatto entrare una persona nel suo cuore e lì è entrata nel mio team vedi a questo punto quindi è bello quello che mi stai dicendo l'amore deve sempre avere il suo spazio il suo posto credo che l'amore esiste ancora dai per chi ci crede sì per chi ci crede sì per chi ci crede sì poi vabbè viviamo anche nell'era di migliaia e nel mondo milioni di separazioni ma poi c'è anche chi trova un punto di incontro così come questi capelli che stanno davvero venendo fuori spettacolari e c'è questa anche questo lucido che sembra come dicevi bagnato in realtà non lo è e tiene i capelli fermi e allo stesso tempo hanno però la possibilità di di muoversi naturalmente no? diciamo che questo è un effetto passerella che noi diamo per questi look molto estivi io oggi ci tenevo a parlare tanto del mare perché tante donne non proteggono i capelli dal sole oppure dall'acqua marina che fa dei danni assurdi immagina che il sole schiarisca i capelli quindi dobbiamo proteggerli questa è una cosa importantissima poi quando usciamo dall'acqua abbiamo questi risultati con il prodotto giusto a prova di mare a prova di mare grazie Giada facciamo entrare l'altra modella però datemi la totale così faccio alzare Giada e facciamola sfilare in modo che da casa possono vedere anche dietro il capello cammina cammina da questa parte e vai verso il nostro tecnico i nostri camera perfetto e ovviamente adesso facciamo entrare Graziana l'altra modella su di lei che cosa farai? prego Graziana allora Graziana ha dei capelli bellissimi innanzitutto ho notato ho notato anche lei è molto molto bella e ha capelli particolari allora su di lei invece andiamo a fare un effetto asciutto però sempre beach diciamo che Giada è appena uscita dall'acqua e a questo effetto glielo ho ricreato con il gel texturizzato invece su Graziana metterò solo il beach wave e vi farò vedere l'effetto sul capello asciutto quindi quando una donna esce dall'acqua cosa fa? usa il nostro prodotto ed avrà il risultato che ora vedrete meraviglia per le donne pensa che ci sono molte anzi lo saprai meglio di me che sono fissate con l'estetica ed è giusto che sia così questo lo confermano anche i psicologi perché prendersi cura di sé significa avere un equilibrio interiore significa vivere meglio figuriamoci se poi in qualche modo riusciamo anche attraverso il lavoro dagli hairstylist a star meglio ecco questo è l'effetto sul capello asciutto non bagnato cioè guarda come prende vitalità l'onda guarda mettendo il prodotto io più li muovo e il capello prende vitalità come si dice prende anche carattere no? prende carattere sì come Graziana che ha un bel caratterino abbiamo visto prima in eravamo prima nella sala trucco e quindi ha uscito un po' il suo caratterino ma per tenere questi capelli così lunghi le donne devono insomma stare attenti soprattutto a che cosa? devono avere molta cura ovvero tenerci perché pure un semplice lavaggio gli porta via ore e se non usano il prodotto giusto ci vuole poco per rovinarli ecco perché quando tu hai un capello così lungo devi avere tanta cura oppure devi avere il fidanzato parrucchiere che non te li farà mai questo è poco ma sicuro tutte si credono mi metto col parrucchiere e mi farà sempre capelli invece è il contrario però in compenso ci sono in commercio determinati prodotti che in velocità e poi nutrono di conseguenza possono far sì che la salute del capello stia a mille e quindi stia bene questo è un altro prodotto questo è un lucidante ah ok che serve a dare lucentezza infatti si vede l'effetto live qui con le luci da esattamente quello che la lucentezza cioè quello che ho voluto fare io con i miei prodotti pure della mia linea solare che è qui e sono prodotti smart prodotti veloci che uno può utilizzare e ha un effetto subito d'impatto noi abbiamo fatto dei prodotti cosmetici dove abbiamo dato subito il risultato non nel lungo perché la donna vuoi o non vuoi vuole vedersi bella subito è vero facciamo alzare graziano così facciamo vedere questa onda definita che questa c'è devo dire che non perdono la capacità di movimento questi capelli no perché questi come vogliamo li muoviamo rimangono sempre tali questa è la bellezza di questo prodotto e un'altra cosa lì da lucentezza questo è più li muoviamo e più belli diventano quello che le donne quando vanno a ballare quindi poi si sentono quindi anche tu sei pronta per un bagno in acqua l'estate è calda e tutto quello che poi può venire fuori di buoni propositi allora accomodati pure carissimo Raffaele e io ringrazio la nostra modella Graziana capelli lunghi entrambi bellissimi ma appunto su questo come dice appunto Raffaele bisogna tenerci bisogna avere cura con i prodotti che proteggono quindi permettono anche che non si spezzino assolutamente allora per un'ottima diciamo una beauty routine un air beauty routine vero oggi si parla di beauty routine per il viso di skin care noi facciamo un air skin care un air beauty routine ovviamente come consiglio a tutte le mie clienti le mie amiche di mettere dei prodotti innanzitutto tutti i giorni tutte le mattine prima di pettinarsi di mettere delle goccine di mettere dei semi di lino qualsiasi cosa che comunque li dia nutrimento e poi di pettinare perché tante donne dicono vado di testa in giù ma non è così perché se tu vuoi dei capelli belli lucidi devi pettinarli devi mettere dei prodotti che diano almeno un po' di nutrimento se no non riusciamo a domarli questo è poco ma sicuro e poi un ottimo shampoo e un'ottima maschera non ci vuole tantissimo questo è poco ma sicuro ci vogliono solo i prodotti giusti costanza costanza e usati nel migliore dei modi basta né più né meno ecco perché non siamo usciti con la nostra linea facendo 50.000 referenze noi abbiamo fatto uno shampoo e una maschera alla cheratina che serve solo per nutrire abbiamo fatto la linea di prodotti solari shampoo shampoo, maschera e lo spray di protezione abbiamo fatto lo spray al sale che lo può utilizzare sia l'uomo che la donna lo può utilizzare al mare quando esce dall'acqua e in qualsiasi momento della giornata poi abbiamo fatto una linea anti caduta per ora partiamo così senza andare a fare mille referenze che poi non ti portano a nulla il prodotto solare per i capelli si può usare anche d'inverno? allora di regola dobbiamo mettere la protezione sui capelli sempre tutto l'anno come mettere la protezione sul viso tutto l'anno perché il sole c'è sempre il sole vuoi o non vuoi fa dei danni fa dei danni sul viso fa dei danni sui capelli se il sole arriva a schiarire i capelli immagina cosa può fare sul viso sulla pelle il derma comunque è sempre delicato quindi protezione 50 protezione 30 almeno l'errore invece che le donne non devono mai fare l'errore che le donne non devono mai fare ma anche gli uomini perché parlavi di i belli i capelli ci sono allora le donne non devono improvvisarsi dopo quello che abbiamo visto durante il covid che tanti colleghi hanno detto anche quello che non dovevano dire poi hanno pagato le conseguenze non devi mai svelare i tuoi segreti perché stiamo a casa abbiamo fatto di tutto durante il covid è passato questo periodo e spero che non ritorni mai più quello che non deve fare una donna è affidarsi a dei professionisti questo deve fare una donna e non affidarsi mai a persone improvvisate tante donne parlano di prezzo tante donne parlano di è caro è caro perché perché ad oggi abbiamo dei costi assurdi oggi non è più un parrucchiere che comprava una tinta a 3 euro e ti faceva il colore a 20 euro oggi giorno abbiamo dei costi assurdi e tutti abbiamo subito degli aumenti quindi se uno paga vuol dire che vale invece se uno paga meno qualcosa ci sarà è la stessa cosa come un'auto come un vestito come un paio di scarpe questo è proprio nel mondo della quotidianità invece l'uomo deve curarsi e ti posso dire che l'uomo oggigiorno lo fa ci dà ci dà dentro forse anche più delle donne in alcuni casi no più delle donne no però posso dirvi che tanti uomini ha iniziato anche a truccarsi tanti uomini ha iniziato a mettersi il contorno occhi tanti uomini vanno dal chirurgo come ci vado anch'io eh a 41 anni sono così e quindi non si direbbe ci sono anche i miei segreti quindi però l'uomo oggi è più curato non è più l'uomo di una volta questo è poco ma sicuro fa piacere che tu abbia elergito questi consigli al nostro pubblico siamo quasi in chiusura però tra i vari e mi hai parlato anche di festival del cinema e mi hai parlato anche a proposito di televisione una fiction che credo sia dagli anni 80 in onda è sempre molto apprezzata di personaggi che poi meritano di essere popolari perché con la loro umiltà riescono a trasmettere quello che segue alla gente ma pure quando ho pettinato Ron Moss sempre di Beautiful sono personaggi allora quello che ho riscontrato che i personaggi le celebrity americane del cinema americano sono diverse dalle celebrity italiane le celebrity italiane da che punto di vista? dal punto di vista della serietà dal punto di vista dell'umiltà perché qui c'è chi ha fatto una puntata di Uomini e Donne e sembra che ha fatto un premio Oscar la verità è questa la verità è questa a me è capitato tante volte facendo televisione ne vediamo davvero tante facendo tante volte dei servizi su delle persone che non erano nessuno erano quelli che hanno dato più fastidio e quindi tu dici ma scusa quello che ha fatto da vent'anni in onda è stato di un'umiltà assurda e tu invece? e quindi certe volte ho detto anche no ho detto no loro no non li posso pettinare questo è poco ma sicuro poi potrei aggiungerti anche che nel mio lavoro ti diverti anche dopo aver curato il tour per la Puglia di Piammedeo quindi con loro mi diverto e con i cittadini li salutiamo tutti diverti perché sono davvero con loro mi diverto tanto perché oltre a cioè loro nei complimenti che mi fanno mi prendono per il culo alla grande scusate il termine però ci divertiamo ci divertiamo tantissimo grazie Raffaele di Girono grazie a voi e alla prossima complimenti ancora per la tua linea e complimenti ovviamente per tutto ma auguri per le prossime cose che stai per fare giovedì oggi alle 6 parte il nostro e-commerce perfetto quindi mi raccomando www.raffaele de girolamo.com tra poco tra poco a pochissimo ciao grazie ciao a tutti ciao a tutti carissimo pubblico grazie ovviamente per averci scelto seguito fin qui avete tutti i nostri canali social per mettervi in contatto con noi ma per seguire anche i prodotti a proposito di prodotti quelli televisivi che vi fanno stare bene perché li scegliete voi anche perché pomeriggio sud e vari format sono sempre vertono proprio nella soddisfare le esigenze del telespettatore che ci sta seguendo in questi anni in questo tempo in questi giorni grazie a tutti ciao 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 ciao